buongiorno a tutti benvenuti su investire.biz ben ritrovati anche quest'oggi alla rubrica caffè mercati e un saluto come sempre da riccardo zago ringrazio le oltre mille persone che hanno partecipato ieri alla scalping live dove abbiamo portato a casa due target price lo short l'abbiamo preso sul nasdaq 100 e l'altro short lo abbiamo preso su s p 500 in un mercato che devo dire è stato un po nervoso rispetto alle solite giornate dove ci sono movimenti un po più lineari ma siamo riusciti comunque a portare a casa i due movimenti principali dopo l'apertura dei mercati americani dalle ore 15 e 30 detto ciò però andiamo sullo sito perché ricordo a tutti che abbiamo già organizzato la prossima scalping live la potete trovare come sempre dalla sezione degli appuntamenti quindi appuntamenti scalping live ovviamente questa non sarà questa non sarà una sessione gratuita però insomma se siete interessati la trovate la trovate qui ricordo invece a un prezzo di 79 euro ricordo invece che chi ha un conto con il broker kimura trading o ne apre uno entro la prossima settimana può partecipare a solamente 49 euro detto ciò però ricordo anche gli appuntamenti di quest'oggi infatti abbiamo abbiamo il trading live a partire dalle ore 16 mi accompagna anche oggi cercheremo di portare a casa di portare a casa qualche qualche trade come abbiamo fatto ieri però faremo anche dell'analisi di più ampio respiro e questa sera per gli appassionati delle criptovalute abbiamo il cripto webinar del mercoledì con samuele malano e joy detto ciò però andiamo subito sulla piattaforma del broker kimura trading per vedere quelli che sono gli argomenti più interessanti a mio avviso per quest'oggi partiamo dal cambio valutario euro franco che stiamo monitorando da diverso tempo come vedete non siamo ancora entrati in posizione ma la nostra view è una view rialzista su questo cambio valutario a mio avviso anche grazie allo studio dell'indicatore cimaco ci stiamo avvicinando a un possibile nuovo trend rialzista molto interessante osservare anche i time frame inferiori ed è proprio qui per esempio su questo grafico che è il che è l'h1 cercheremo qualche segnale per entrare long per i più aggressivi si può volutare anche un long già da questo momento però io vorrei attendere un attimo la chiusura giornaliera e adesso vedremo perché è importante attendere soprattutto in questo periodo la chiusura giornaliera in ogni caso vi faccio vedere il livello chiave a mio avviso da monitorare per quest'oggi il minimo di questa candela ad alta volatilità minimo che appena testato anche questo appena stato testato 0,9640 0,96 e 30 da qui i prezzi potrebbero ripartire al rialzo ma attendiamo la chiusura giornaliera per entrare long per i più aggressivi invece ok si può valutare un long da questi livelli ricordo che gli obiettivi rialzisti sono 0,97 80 e come secondo obiettivo abbiamo 0,98 e 50 detto ciò però andiamo a vedere anche altri strumenti e andiamo e voglio mostrarvi perché è importante attendere la chiusura giornaliera ieri sera durante l'aggiornamento di trading con il pre section ho parlato di un potenziale long su gbp usd potenziale long perché perché ieri i prezzi si ritrovavano mentre stavo registrando su questa zona quindi sulla zona dei massimi che cosa è successo però dal momento in cui ho registrato quel video alla chiusura della candela giornaliera che i prezzi che la direzione del mercato è totalmente cambiata i prezzi non solo hanno sotto hanno chiuso sotto il minimo di ieri del giorno precedente scusate ma addirittura sul minimo di giornato comunque molto vicino quindi questo è non è un segnale rialzista quindi vedete come è importante attendere la chiusura della candela perché le cose possono cambiare di conseguenza noi non siamo entrati sul gbp usd a rialzo proprio perché la chiusura della candela giornaliera ci ha segnalato un segnale ribassista e non rialzista quindi non è ancora il momento di andare contro il dollaro americano quando parliamo di gbp usd questo è esattamente anche quello che è successo sul gold come dicevo ieri c'erano delle possibilità rialziste ma solamente alla rottura in chiusura giornaliera del livello di 1680 perché noi andiamo a individuare cerchiamo di individuare i livelli più importanti e attendiamo poi la chiusura della candela del time frame di riferimento se la nostra strategia è sull'h1 attenderemo l'h1 in questo caso stiamo parlando di operatività sul time frame giornaliero e i prezzi non hanno chiuso sopra il livello di 1680 e quindi anche qui il segnale rialzista che abbiamo visto ieri prima della chiusura è stato annullato da che cosa dalla chiusura della candela giornaliera che ha chiuso come potete vedere qui in area 1666 quindi non è ancora il momento per entrare log sul gold io con questo ho concluso ci vediamo oggi pomeriggio alle ore 16 in mia compagnia buona giornata e buon trading a tutti buona giornata e 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 bu